Ciao a tutti, sono Gabriele, ex coordinatore del progetto Mentorship all'Orientale. Il progetto sarebbe stato diverso se non si fosse svolto in modalità online ma in presenza, indubbiamente sì, ma questa modalità ci ha dato la possibilità di sperimentare strumenti e tecniche innovative. E gli studenti hanno avuto più bisogno di contatto umano o di supporto didattico-amministrativo. Entrambe le cose, l'una non esclude l'altra, ed entrambe sono imprescindibili e fondamentali per una carriera universitaria serena. Hello, I just want to say something about mentorship. Mentorship is a perfect program to help other students and support them. Me as a mentee, they help, support and advise me in every step. We can call it a real help because they support all the students who need the help. So thank you so much, Mentorship. Il progetto Mentorship è una grande opportunità per l'università, per gli studenti rifugiati e con background migratorio, e anche per gli studenti italiani, che sono i veri protagonisti dell'iniziativa, che hanno la possibilità di mettersi in gioco per realizzare un futuro migliore, un futuro basato sull'integrazione. Hey guys, my name is Josh. I'm going to be going to La Sapienza as a first year, hopefully if I pass the exam for nursing. And I just wanted to make a little video about Mentorship, La Sapienza. They've helped me so much. Like I'm not even saying that, just to say it, they've helped me a lot with the applications, with the documents, with reminders, with like other even like little events that are taking place at La Sapienza. They're really, really good. So I just want to thank them and make this video to show my appreciation for them. Hi, I am Kaisei Okubo, from Japan. So I am a volunteer for Speaking Day. So we are looking forward to joining us. And thank you. Buongiorno a tutti, mi chiamo Claudio Maria Guarino, studente dell'Università degli Studi di Napoli l'Orientale e ho partecipato al progetto Mentorship Ricoprendo Duolo di Mentore. Il punto di forza di questo progetto, a mio avviso, è stato lo stimolare una maggiore coesione tra studenti, creando una rete non solo di supporto, ma anche semplicemente di contatto, che ha aiutato l'individuo studente in un periodo particolare, quello pandemico. Riguardo le attività svolte, faccio fatica a sceglierne una che abbia avuto esiti migliori, in quanto ho riscontrato che tutte le iniziative portate avanti dai mentori di Quattuciti abbiano avuto ugualmente risultati efficienti e soddisfacenti. Dalle azioni di supporto operate in campo amministrativo e didattico, sia individuale che attraverso rubriche di informazione, come la guida dello studente in pillole o la What's News, fino alle attività svolte in campo di comunicazione e promozione del progetto, come la creazione di eventi o l'incremento delle interazioni sui social. Hello, this is Ajad, I would like to express my appreciation from the Sapienza Mentorships, because they helped me in an appropriate way in order to complete my scholarship application. To tell the truth, the mentors were really friendly and they helped me in a very nice way. Thank you so much, I wish you the best. Ciao a tutti, io sono Valentina del progetto Mentorship dell'Università di Pisa. Per me questa esperienza è stata molto interessante perché mi ha permesso di conoscere ragazzi provenienti da tutto il mondo, nonostante appunto la pandemia, ma anche di acquisire nuove competenze inutili per il mio futuro lavorativo, come per esempio gestire i canali social di un progetto. Hi, my name is Asfala Mahari, I am studying Computer Science and Networking. The Mentorship Programme helps me to make a lot of friends in different get together occasions. That helps me to feel more relaxed and connected eventually that improves my performance in my studies. Thank you very much. I am Teril Anandi Gebru from India. I am studying at University of Pisa in IPF Programme. I had been heard about Mentorship Project. For the first time I am not sure about what is Mentorship Project. Then I asked my colleagues, they said that it is a project where they used to help the foreign students. They called for a meeting in a bar and I enjoyed that and they also helped me in my scholarship getting credits. They are so friendly and so kind to me. Thank you so much. Grazie al Project Mentorship siamo riusciti a creare una community solida in grado di mettere a disposizione dei ragazzi stranieri i mezzi necessari per il raggiungimento dei loro obiettivi. Siamo il Comitato dell'Università degli Studi di Bari Aldomoro, formato da quattro mentori e supportato da quattro volontari. Abbiamo iniziato il nostro percorso il primo marzo 2021. Mentorship non è stato soltanto un progetto inclusivo ma un viaggio meraviglioso con le sue storie e le difficoltà legate alla pandemia, le tappe, gli obiettivi futuri e soprattutto i suoi viaggiatori. I risultati non sono mancati. Abbiamo organizzato eventi online, eventi in presenza, tutoraggi amministrativi, sociali e didastici. Siamo riusciti a far istituzionalizzare il nostro Comitato ma soprattutto abbiamo creato una rete umana di supporto. Ma abbiamo ancora tanti obiettivi da raggiungere, quindi siamo sicuri che questo per la nostra Università e il nostro Comitato sia solo l'inizio.